Il piano di gestione della riserva del furlo e del suo regolamento è un compito istituzionale dato dal Ministero alla provincia che è l'ente gestore della riserva statale quella del furlo. Quindi già con il decreto ministeriale istitutivo della riserva e dell'affidamento alla provincia della gestione tra gli adempimenti principi era quello di fare un piano di gestione che significa normare tutte le azioni e attività di valorizzazione di questo bene. La particolarità di questo piano che è stato approvato dal Ministero perché questa è competenza ministeriale, essendo una riserva statale, è stato ben accolto anche perché è il primo piano nazionale di una riserva statale, perché è riuscito a coniugare l'aspetto di valorizzazione con quello della tutela dei luoghi. Infatti il punto centrale di questo piano è stata la sfida che il Presidente diede a me come coordinatore e ai miei collaboratori di rendere questo luogo un punto di riferimento nel rispetto delle tutele ambientali per un turismo colto e sostenibile. E questa è la chiave di lettura di questo piano. Tutte quelle azioni che si propone il piano, quello di valorizzare questo luogo ai fini turistici sostenibili era un'opera difficile, però a detta dal Ministero ben equilibrate è riuscita. In particolare ne cito alcune che la popolazione e tutti gli sportivi attendono da anni è quella della pratica del sorvolo col parapendio, quindi abbiamo individuato un luogo preciso dove sarà naturalmente regolamentato in un periodo preciso dell'anno, un punto puntuale dove fare la rampicata, la possibilità di utilizzare il candigliano con dei piccoli natanti e la pesca no kill lungo sempre il candigliano. Ecco, queste sono queste azioni che prima dell'atto costitutivo della riserva, che ricordo del 2001, erano praticate in quanto consoni con le normative previgenti, con il decreto le avevano vietate. Ecco, quindi siamo riusciti in una difficoltà comunque normativa e gestionale avere questo connubio tra tutela e fruizione sostenibile, che va in linea anche con la prossima politica che la provincia sta attivando per la riserva e la candidatura europea per la Carta del Turismo Sostenibile. E' un ulteriore passo in avanti, che saranno queste azioni di fatto certificate dal Parlamento europeo dopo un lungo processo che ci vede protagonisti anche tutti gli operatori della zona e gli amministratori, perché ricordo tra l'altro, lo ricordo sempre, che la riserva statale comprende il territorio di 5 comuni a Qualagna, Cagli, Fossombrone, Fermignano e Urbino, e che hanno partecipato in maniera attiva, così come la popolazione, alla stesura di questo piano. L'ultima cosa che ci tengo molto a precisare è che tutto il piano di gestione, che è considerevole negli studi, negli elaborati, è nato proprio in questo luogo dove ci troviamo, nell'ufficio tecnico del Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Aree Protette, e i collaboratori sotto il mio coordinamento, ma diciamo che la mente che ha coordinato in materia scientifica il dottor Gubbellini, Leonardo, affiancato dal dottor Furlani e dal dottor Allavena, l'unico esterno di questo gruppo. Tutti il resto, con l'ingegnere Mario Primavera, l'architetto Senigalliesi, l'architetto Simone Servizi, l'architetto Ridolfi, Simone Forlani Cristina e tanti altri, hanno elaborato all'interno di questo servizio tutta la progettazione. Ora adesso è disponibile nel nostro sito della riserva, lo potete consultare direttamente dal sito del Ministero dell'Ambiente che l'ha pubblicato, dopo averlo pubblicato nella gazzetta ufficiale, non più tardi nel mese di settembre. Adesso è il momento più difficile, perché il piano ci dà norme, criteri, ma lo dobbiamo applicare. Quindi spetta alle cinque amministrazioni e alla provincia come intergestore, cinque amministrazioni comunali e tutti i soggetti, cominciare a definire, a elaborare gli regolamenti, alla tabellazione di tutte le aree, a tutela integrale. Quindi è un grandissimo sforzo che ci dovedrà protagonisti nei prossimi anni. Grazie a tutti.